In live da Gribaud, Anima, il noto youtuber italiano, parla di un suo ex amico, lo reputa molto tirchio, come tra poco lo starai a sentire, e vabbè, ti lascio direttamente la clip che è stata caricata, fammi sapere una tua opinione, e ci vediamo al mio prossimo video youtube... Cioè io... persona terribile, tirchio come pochi, frega tutte le persone che incontra, stateci alla larga, merdeo diamante. No, ma scusa, non siete amici? Ma che amici? Dopo cinque mesi che ti ospita a casa gratis ti chiedo, dividiamo l'affitto e scappi? Minchia, sei un poraccio.